Vabbè io sono Manuel, mi presento, vedevo da fare un discorso, dopo tutte queste cose che vi dico, vi posso dire una cosa, io quando sono morto, qui dice sei venuto alla nuova vita, io vi dico quando sono morto e so stranto, poi dopo mi hanno operato pure, mi hanno levato un po' di roba, non è andata proprio come dice lui, ma il mio è stato un incidente e poi è ovvio che per miliardi di persone ogni passaggio è un po' diverso, però in finale è tutto giusto quello che va detto, io certo ero regazzotto, e mi ricordo che piangivo, non lamentavo, per voi potesse un giorno, per me possono, possono essere stati cinque anni, quattro anni, tre anni, che ne so, e non mi ripiano, poi dopo, devo dire grazie a Dio e grazie al caso, pure che non c'è, perché ovviamente siamo tutti invitati, ci siamo conosciuti fra noi, e so potuto cominciare a venire, e da lì la vita mi ha cambiato, e devo dire che ho ripreso il carattere mio di ride, di scherzare, ma sapete, pure io ce ne avrei da dire, che pure qui le badossa non mancano, ma questo è un altro discorso, e vi devo dare una cosa, adesso, non so vent'anni, che so, che sto da qua, e se me dovessero da dire, che torni giù, beh, ci penserei un pochetto, perché vi dico la verità, a vedere da vicino, a voi, che pure siete bravi persone, non vi manca quasi niente, e beh, pure ci avete tanti affanni, ecco, a decidere di ritornare, beh, insomma, non è facile, se poi guardo un giro e guardo l'altro, con tutti gli guai, con tutti gli incidenti, no, 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 io sto qui, io guardo, rido, oroscolo, ah ah ah, certe volte, mi strimano, però, c'ho tante conoscenze, e finché sto nel gruppo mio, ma chi si muove da qui, è come se voi, state in famiglia, e state tutti bene, d'accordo, d'amore, le scambiate, e che volete in amia famiglia, per mandare una che litigano, che sono alcolizzati, no, ve ne state dove state, e così io me ne sto dove sto, e da dove sto, mi faccio tanti auguri, le voglio tanto bene, e proseguimo così, che dobbiamo andare sempre meglio, sempre meglio di più. Ciao, ciao, grazie.